Nonno cosa sta facendo scusi? Attendere prego. Ma lasci stare. Un gesto insensato. Esatto perché si sta pettinando? Che buiamo, che buiamo. Vabbè. Poi è elegantissimo cosa è la pochette, il cash call. La pochette. La pochette. La pochette. Il fazzolettino che si mette nel taschino della giacca o della camicia. Ma non stia a scrivere tutto. Ma non stia a scrivere tutto. Ma non faccia così. Ma non faccia così. Ha capito cos'è? Ha capito che cos'è? Ha capito? La pochette. Ecco. La pochette e il cash call. Ma come va il computer? No, 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 no. Lasci stare il cash call. Che buiamo, che buiamo. Come va il computer nuovo? Questo qua, questo è fantastico. Questa è una roba veramente straordinaria. Sì, ma si era impiantato settimana scorsa. Ciao, un processore 250 MB. Sì, fa piacere. 128 MB. Sì, certo. 1 MB. È riconoscitore vocale. Come scusi? Capisci? È riconoscitore vocale. No, appunto. Ce lo spieghi? Riconosce la voce e risponde. La sua voce? La voce di chi? La sua? A livello di toni multimediali e voci virtuali. Ma si faccia capire. Riconosce la sua voce. Riconosce la mia visita. E lei risponde a tono? Mi risponde a tono multimediale. No, ci faccia sentire perché cosa sta dicendo? Vuoi ci dire? Vuoi ci dire? Voglio sentire. Avrà la solita voce metallica. Sì, certo. Attendere, prego. Attendere, prego. Attendere, scusate. Attendere, prego. Sì. Cosa fa? Imposta il programma? Eh, penso di sì. Che c'è? Bello, vuoi? No. Sei impiantato. Capo calme, capo calme, buon rispetto. Di nuovo. Bello? Sei impiantato. Ciao Pucci. Ma chi è? No, scusi, che voce è? Scusi, perché Pucci? Poi la chiama Pucci. È codice internet. Ah, Pucci. Ah, non è codice. C'è codice internet. No. No, no. Ci faccia vedere. Imposta il programma. Eh sì, imposta. Inserisci la password. Pucci. Inserisco password. Pucci. Inserisca la password. Pucci. È Baudo Pippo. Una produzione. Airone Comunicazione.